Voglia di estate? Voglia di sole? Voglia di mare? Voglia di granita al mango? Voglia di una barca di suonerie? Ma allora cosa aspetti? Siamo quando sono sbronzo Ti amo di più Invia subito un messaggio al 493305 Potrai scegliere tra ben milioni, miliardi, che dico miliardi, mila suonerie Scrivi Don il codice numerico della suoneria che hai scelto E riceverai sul tuo cell metà della suoneria che hai scelto Proprio così, ne riceverai solo metà Perché l'altra metà la riceverà un tuo amico No, come un tuo amico, non la riceveva tuo padre No, quella era l'idea iniziale, ma adesso abbiamo cambiato perché non attirava Ma che importa, non siamo qui a parlare di offerte vecchie Spendendo solamente 50 soldi, farai un regalo a te e ad un tuo amico Facciamo un esempio Vorresti avere sul cellulare la hit del momento? Quella che tutti desiderano? Manda un sms al 493305 scrivendo Don seguito da H2O Tu riceverai questa Mentre un tuo amico riceverà questa Ma la vera sorpresa deve ancora arrivare Dici bene caro collega, perché l'amico non lo scegli tu, ma lo scegliamo noi Così i tuoi amici si divertiranno un mondo a nominare chi è quel mattacchione che gli ha inviato solo metà suoneria Inoltre, se scarichi 1000 e 1784 suonerie Riceverai gratis, e dico gratis, la suoneria con rimprovero del Don Per chi ne sentisse la mancanza Negativo, 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 negativo Negativo, 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 negativo Allora, cosa aspetti? Alza la cornetta Mondial CAI, San Paolo Mobile, ti aspetta Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana